Musica Ben ritrovati a tutti sono Lollo Oggi siamo di nuovo qui con un'altra war fair play Una war contro Villa Locura Un clan che ai tempi era modders come noi Adesso sono diventati anche loro froci Una war Una delle war più belle dal punto di vista Di attacchi TH10 vs TH10 Perché come edizione la scorsa Dobbiamo ancora imparare Ma comunque in questa siamo riusciti a fare due attacchi TH10 vs TH10 Basi non Tostissime ma comunque neanche Troppo facili da triplare E gli attacchi che Sono stati fatti sono veramente belli Perché quello sull'otto Fatto da Igor Gelato È un attacco dove ha Overkillato la madonna Mentre quello di capo fatto sul nove È un attacco che mi è piaciuto veramente tanto Per il walk che ha fatto E comunque è riuscito a recuperare l'attacco Dato che aveva flopato gli spacca muro Una prestazione del cazzo invece Dei nostri TH11 tra cui me Dove abbiamo fatto veramente pena Di fare i TH10 Tranne per un attacco che è stato abbastanza carino E poi vabbè Le due stelle su TH11 sono state abbastanza facili I villi non erano Un villo era anti-trea col muni e fuori Quindi l'abbiamo fatto con un TH9 Mentre gli altri due comunque Abbiamo dovuto pensarsi un attimo Ma attacchi ben fatti e ben studiati Per quanto riguarda i TH9 Vedo che ci stanno veramente trovando bene da fair play Perché mi sembra Forse in questa war abbiamo fatto un dip Ma perché sono stati coglioni i nostri Ma di solito I TH9 vengono triplati con molta velocità E senza fare dei dip da TH10 e TH11 E ci sentiamo con la prossima war Che arriverà a breve Perché proprio oggi abbiamo mezzato Victory Matters E alla prossima Buon video Buona visione Buon video 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 Buon video